ragazzi prima di continuare come al solito vi chiedo le solite cose un bel like se questo video vi piace fatemelo sapere magari qui nei commenti se volete vedere altri video come questo dei mini tutorial in buona sostanza ricordatevi importantissimo iscrizione al canale e ricordatevi anche che tutto quello che vedete i pezzi che metto e tutto quanto il resto trovate il link qui sotto per acquistarlo da amazon sono link referenziati a voi non costa niente in più e io ci farò una piccola piccola percentuale ciao ficiolini bentornati sul mio canale oggi altro mini tutorial su come sistemare i vostri mcd casa oggi abbiamo un asus x5 40 s una macchina devo dirvi di non tanti anni fa basta stare cento perché abbiamo un paio d'anni tre al massimo questa macchina di per sé è una bella macchina perché vedete è un portatile da 15 pollici molto sottile pesa meno di due chili completo di tutte le porte di cui possiamo avere bisogno di una sostanza usb 3.0 hdmi vga porta di rete standard wifi dual band addirittura una porta usb c 3.1 reversibile cioè addirittura potete utilizzare per caricare il dispositivo jack delle cuffie lettore di schede insomma un po veramente veramente tutto addirittura ancora il lettore dvd per chi ne potesse avere bisogno sapere che per alcuni utilizzi magari anche scolastici vi dicendo molto materiale ancora disponibile sul supporto ottico questa macchina è di una persona che me l'ha lasciata dicendo come al solito che con windows 10 diciamo funziona bene però lo trova un pochettino gommoso un pochettino lentino allora questa macchina come molte molte altre macchine hanno fondamentalmente due problemini uno che è un problemino che in realtà potrebbe essere proprio una decisione costruttiva strutturale che è quello legato al processore infatti questo è un processore intel dual core n3060 processore che ha soltanto due cordi di elaborazione quindi diciamo non aspettativi prestazioni incredibili è proprio un processore per l'utilizzo intel level però ha dal suo vantaggio di scaldare molto poco consumare poco la batteria e questo giova anche in termini costruttivi perché scaldando poco non è necessario mettere qui all'interno chissà quali ventole dissipatori vi dicendo qui si va a risparmiare anche molto spazio internamente e molto peso potendo fare appunto dei device così sottili e leggeri l'altro è chiaramente in questo caso legato al supportivo in monetizzazione cioè all'hard disk questo infatti ha il solito classico hard disk meccanico che voi sapete io ve l'ho già detto mille volte con window 10 non utilizzate hard disk meccanici infatti come vi faccio vedere da un po' gli schermati quando andate a fare qualsiasi cosa in cui vi parte il window update trovate il sistema che lagga che è lì che non sapete che diamine sta facendo e se andate ad aprire il task manager vedrete che il sistema è impiccato sull'utilizzo della cpu perché sta facendo l'installazione di tutte le patch di sicurezza ma soprattutto è impiccato dal punto di vista dell'utilizzo disco perché questi come tante altre operazioni vanno a fare delle scritture delle letture massive da disco e il disco meccanico soprattutto quelli portati da due e mezzo sono dei dischi a 5400 rpm cioè una velocità di rotazione infinitesimamente più lenta rispetto anche ai soli dischi normali per computer fisso per cui quella è una cosa su cui bisogna mettere a rimedio e vedrete che con l'aggiunta di un disco ssd questa macchina tornerà ad avere prestazioni molto accettabili e potrebbe tornare molto utile per l'utilizzo normale di cadre, leggere la posta, insomma navigazione vi dicendo ma essendo una macchina così portatile è anche molto interessante quando ve la dovete portare in giro perché magari siete un professionista che gira e volete avere una macchina che costi poco che vi permette di gestire documenti, fare presentazioni, rispondere alle mail e vi dicendo quando siete in mobilità vedo comunque sempre uno schermo da 15 pollici una batteria che vi dura comunque decisamente tanto e un portatile leggero e praticamente da portare in giro andiamo ad aprirlo e mettiamo il disco ssd allora chiavettina usb inserita, disco nuovo collegato con l'adattatore usb faccio l'avvio dalla chiavettina usb perché prima di sostituire il disco voglio fare la copia quindi sono sicuro che quando lo andrò a mettere sarò già pronto e se qualcosa va storto diciamo che non ho la macchina aperta con un disco vuoto dentro suite della Lazesoft l'ho già utilizzato, ho fatto un video apposto in cui descrivo proprio l'importanza dell'ssd e come fare per installarlo, facendo vedere tutti i tool, anche un altro adattatore usb diciamo più economico questo è quello che ho in ufficio che va bene sia per i dischi grossi che per quelli piccoli per cui dai andatevelo a vedervi, vi lascio il video qui sopra in descrizione e nell'info box adesso faccio la copia e una volta fatta andiamo in laboratorio, lo smontiamo e montiamo l'ssd all'interno Copia completata, andiamo a rimuovere il disco, mettiamo l'sd e andiamo Copia completata, andiamo a rimuovere il disco, mettiamo l'ssd all'interno Copia completata, e mettiamo l'ssd all'interno Copia completata è un'interno, edito ti è un'interno Ok amici avete visto che di per sé non abbiamo guadagnato tantissimo In circa una quindicina di secondi Anche se in realtà poi vedrete che nell'utilizzo quotidiano Quei 15 secondi che aspettate tutte le volte che lo accendete Alla fine si fanno sentire Come avete visto anche abbiamo utilizzato un disco ssd Non particolarmente rinomato, prestazionale E un Kingdian Io li sto utilizzando nei miei lavoretti di restauro In realtà vanno bene, non mi hanno mai dato problemi e costano molto poco Vi consiglio di fare lo stesso se state mettendo le mani su di una macchina non recentissima Perché andare a mettere ad esempio un Samsung Evo Sarebbe come mettere il contepilometro di una Ferrari su una 500 In una sostanza avete il fondo scala ma non vi serve perché non lo raggiungerete mai E in questa macchina nello specifico abbiamo risolto perlomeno il problema del collo di bottiglia Che si creava sul disco meccanico Cosa che succede praticamente sempre con tutti i PC con Windows 10 Come vi dico sempre con il disco meccanico Rimane sempre una CPU particolarmente modesta Ma tant'è vi dirò sensualmente che per i task giornalieri quotidiani Guardare la posta, amicare su internet, guardare i video su YouTube o su Netflix Non ve ne accorgerete particolarmente Magari aspettate qualche secondo quando l'aprite Ma poi l'applicazione funziona Proprio perché in buona sostanza il disco SSD con la propria cache Riesce un pochettino da fare da polmone Per tutte quelle attività che magari ci mettono un pochettino di più a essere processate dalla CPU Quindi alla fine avete visto con una piccola spesa Abbiamo ridato un pochettino di ossigeno a questa macchina Che di per sé ha delle caratteristiche abbastanza interessanti Per essere un 15 pollici e leggere portati da tutte le porte Ed era un peccato che venisse così penalizzato dal solito maledetto disco meccanico Con questo è tutto ragazzi Io spero che questo video vi sia piaciuto Se è così fatemelo sapere nei commenti Oppure nella schermata finale Se cliccate sul mio faccione potete iscrivervi al canale Se lo fate ve ne ringrazio Oppure potete vedere un altro video Con questo è tutto Ciao da Puglia Ciao da Puglia